Repubblica Popolare Democratica di Corea e Corea del Sud hanno dichiarato la fine della guerra. Le due Coree, attraverso lo sviluppo e l'uso di una valuta comune, istituiranno un'unione economica. Il Nord ha aperto la sua economia e ogni coreano avrebbe dovuto trarne grandi profitti, ma solo i ricchi si sono arricchiti ulteriormente. Benvenuti nel capitalismo. E noi, rimasti senza niente, rivendicheremo i nostri profitti. Incineremo la più grande rapina della storia dell'umanità. Faremo cose molto brutte. Grazie per la visione!